Abramo Customer Care e System House, società che fa capo all'implanitore Agostino Silipo, presenteranno al giudice del Tribunale di Roma un progetto di concordato indiretto per il passaggio dell'azienda. Nel corso della riunione, promossa a Crotone in videoconferenza, è stato rimarcato che occorre l'intervento del Governo per avere dei vantaggi fiscali per evitare che ci possano essere esuberi tra i 3.000 dipendenti calabresi. Messaggio più che chiaro venuto fuori dagli interventi di Agostino Silipo, AD della System House, azienda che ha presentato al Tribunale di Roma un'offerta di affitto della Abramo, e sia da Giovanni Orestano, direttore della Abramo Customer Care. Al tavolo di garanzia attivato da tempo dal comune di Crotone, Silipo ha presentato alcuni particolari dell'offerta, parlando di un progetto da presentare al Tribunale di Roma per accelerare il superamento della crisi e poter tornare sul mercato con una potenza maggiore. Abramo e System House si sono impegnati per trovare un'intesa su quella che lo stesso Silipo ha definito più volte una fusione per creare un polo calabrese del settore. Abbiamo tracciato solchi condivisi, ha detto Silipo, per un progetto da proporre al giudice e far capire che la tempestività diventa importante. Il tempo è tiranno perché dobbiamo dare tranquillità ai committenti. Da ricordare che sul piatto ci sono commesse importanti alle quali si potrebbe partecipare con un'azienda calabrese più forte e competitiva. Per Silipo, Abramo e System House hanno una componente che li contraddistingue, vale a dire i lavoratori. Il piano industriale ha un obiettivo, non perdere alcun posto di lavoro. Al tavolo di garanzia, mediato dal presidente del Consiglio Comunale Giovanni Greco, erano presenti i deputati Elisabetta Barbuto, Anna Laura Orrico, Sergio Torromino, il sindaco Vincenzo Voce, l'assessore alle attività produttive Luca Bossi ed i rappresentanti dei sindacati, Ligato per la CGL, Canino per la Cisle, Tomaino e Ranieri per la UIL.